ciao a tutti e bentornati a pillole di storia combo pitalia la storia che vengo a raccontarvi oggi è una di quelle storie che per molto tempo sono state dimenticate messe in un cassetto come se la testa di tutti coloro che la conoscevano non volesse tornare a quegli avvenimenti e forse adesso che ve lo racconterò capirete perché sia comprensibile è una storia dedicata ad un uomo che nella sua vita fu molto 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 famoso molto 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 apprezzato e non in una galassia lontana lontana ma qui in italia e che dopo la sua morte o meglio da qualche anno prima della sua morte venne completamente dimenticato fino a che insomma nel 2011 è uscito un libro lui dedicato e da quel momento hanno iniziato ad esserci molte manifestazioni in suo onore la maggior parte di queste manifestazioni sono sono organizzate dalla figici e dalla lega calcio perché l'uomo di cui vi sto parlando è stato un calciatore ma soprattutto è stato un grande allenatore anzi se noi andiamo a fare una classifica dei migliori allenatori decennio per decennio del campionato italiano semplicemente sommando i punti conquistati ad esempio in questo decennio migliori allenatori allegri nel decennio precedente ancelotti poi lippi trapattoni se andiamo negli anni 30 anni che in cui la juventus vinse cinque scudetti quindi forse carcano che nella 24 potrebbe potrebbe essere quello che magari aveva fatto più punti e invece no l'allenatore che ha fatto più punti negli anni 30 quindi se vogliamo il miglior allenatore degli anni 30 è proprio lui un ungherese nato nel 1896 in ungheria chiamato arpa baij arpa baij non era solo ungherese o meglio così non era considerato perché era ungherese ed era ebreo non perché nella sua vita avesse praticato in maniera particolarmente assidua l'ebraismo ma perché ebrei erano i suoi genitori e all'epoca si veniva considerati ebrei perché i tuoi genitori erano ebrei e per alcuni in alcuni paesi questa era una stimmate che non ci si poteva togliere arpa baij fin da giovane era un grande giocatore di calcio inizialmente iniziò con delle squadre giovanili in piccole squadre ungheresi ma quando fu chiaro che quello poteva anche essere un lavoro un modo per guadagnarsi da vivere e negli anni 30 essere calciatore iniziava a essere anche un modo per guadagnarsi da vivere iniziò a giocare per squadre sempre migliori ben in italia giocò addirittura nell'inter proprio nell'inter però finì la sua carriera dopo poche partite infatti si ruppe un ginocchio una cosa che oggi probabilmente verrebbe guarita in pochi mesi ma che all'epoca portava alla fine della della carriera si ruppe un ginocchio e dovette smettere di giocare ora non vi stupisca che un giocatore ungherese venga a giocare in italia certo forse oggi ci sembra strano oggi che le cosiddette nazioni danubiane come venivano chiamate all'epoca quindi austria cecoslovacchia ungheria sono diciamolo pure la periferia del calcio forse l'austria sta recuperando qualcosa adesso la repubblica cieca tra gli anni 90 e l'inizio del 2000 è stata una buona squadra però oggi come oggi questa è la periferia del calcio europeo all'epoca invece la cosiddetta scuola danubiana faceva scuola letteralmente in tutta europa addirittura in italia negli anni 30 c'erano degli anni in cui vi erano più allenatori ungheresi austriaci o della cecoslovacchia che allenatori italiani cosa che adesso sembra assolutamente assurda non solo anche alcune delle migliori nazionali dell'epoca erano provenivano infatti dall'europa dell'este se ci pensate nel 34 nel 38 quando l'italia vinse i mondiali affrontò l'ungheria e la cecoslovacchia due nazioni che adesso sicuramente non sono tra le prime del ranking mondiale ma addirittura nel 34 in semifinale affrontammo l'austria insomma dove erano le grandi potenze di oggi beh stavano stavano crescendo erano un pochettino altri tempi l'incidente al ginocchio di arpad weij potrebbe sembrare una sfortuna invece forse per lui ma soprattutto per il calcio italiano fu una gran fortuna perché una volta che si fu infortunato l'ultima cosa cui pensò fu di tornare in ungheria per trovarsi un altro lavoro molto probabilmente si era innamorato dell'italia aveva deciso di rimanere lì a vivere addirittura la moglie aveva inizia era ungarese aveva iniziato a farsi chiamare elena italianizzando un pochettino il nome e negli anni successivi chiamò tutti e tre i figli con nomi italiani insomma probabilmente negli anni trenta tra la fine degli anni venti e gli anni trenta arpad weij smise di considerarsi solamente ungherese ed ebreo e iniziò a considerarsi anche un pochettino italiano non era più un calciatore ora era un allenatore e ben presto iniziò a fare scuola dopo aver allenato le giovanili dell'alessandria iniziò nel 1926 ad allenare l'inter si dimostrò subito rivoluzionario per vari motivi fu uno dei primi allenatori dell'epoca che scendeva in campo durante gli allenamenti con i suoi giocatori per provare gli schemi fu uno dei primi allenatori a dare tanta importanza alla dieta cosa che all'epoca nessuno considerava fu uno dei primi allenatori a dare tanta importanza alla tattica che all'epoca era ancora molto molto semplice aveva anche tanto fiuto per i giovani si dice che un giorno osservando le giovanili dell'inter abbia visto un ragazzino che aveva un ottimo modo di portare la palla un ottimo modo di calciarla ma era piccolino gracile non molto alto e gli osservatori delle giovanili gli dissero chiaramente che erano lì per tagliarlo e rimandarlo a casa perché secondo loro non si poteva fare nulla di buono da quel ragazzino bene arpad weij chiese che rimanesse con le giovanili anzi lo portò in prima squadra iniziò ad allenarlo e quel ragazzino si chiamava giuseppe meazza e fu uno dei protagonisti dell'italia che vinse due mondiali nel 34 e nel 38 non era però solo bravo con le giovanili era bravo anche con la prima squadra e nel 1929 1930 arpad weij condusse l'inter che ormai era ambrosiana inter come mussolini l'aveva rinominata perché internazionale pareva pareva brutto all'epoca condusse l'ambrosiana inter a vincere il primo scudetto della della storia o meglio il primo scudetto di un campionato a girone unico non più diviso in un campionato di nord e di sud tra altri i bassi rimase all'inter fino al 1934 in realtà in mezzo vi fu una parentesi di un anno in in cui andò a bari che salvando la squadra e portando in facendo mantenendoli in serie a una cosa che all'epoca fu considerata quasi più grande rispetto a ciò che aveva fatto con l'inter perché sicuramente non era una squadra dello stesso valore durante questi anni non vinse più niente ma a tutti gli effetti furono anche i cinque anni in cui una sola squadra dominava in italia cioè la juventus che vinse cinque scudetti consecutivi e che fino all'inter di qualche anno fa e alla juventus attuale aveva il record di scudetti vinti in maniera consecutiva nel 1934 scenderà in b ad allenare il novara che riuscirà a riportare in serie a e cui con cui forse avrebbe potuto iniziare un nuovo ciclo ma nel 1936 arrivò una chiamata ben più importante quella del bologna all'epoca al bologna a differenza di oggi non era una squadra che insomma lotta per salvarsi in serie a scende in serie b risale in serie a ma era una squadra molto importante aveva vinto anche degli scudetti negli anni precedenti e voleva un allenatore che potesse riportarla in vetta tra 1936 37 e il 37 38 arpad weij condusse il bologna a vincere due scudetti consecutivi ma cosa ben più importante nel 1938 37 scusatemi portò il bologna a diventare sostanzialmente campione d'europa all'epoca la champions league tantomeno la coppa campioni non esisteva esistevano però delle coppe tra virgolette internazionali tra cui sicuramente la più famosa era la coppa dell'europa centrale nel 1937 però in occasione dell'esposizione universale venne organizzato un torneo da tenersi a parigi un torneo speciale a cui vennero invitate squadre che giungevano da tutti i paesi d'europa e cosa più unica che rara venne addirittura invitata e accettò una squadra inglese all'epoca le squadre inglesi consideravano se stesse le uniche vere giocatrici di calcio assolutamente non paragonabili altre squadre del continente perché dotate di una bravura incredibile e il bologna dopo aver eliminato squadre ungheresi squadre francesi arrivò in finale proprio contro una squadra inglese questa squadra inglese era il celsi che probabilmente dopo aver vinto l'eliminatore precedenti pensava di poter arrivare in finale e fare a pezzi anche il bologna invece secondo quello che ci dicono le cronache del tempo per lunghi tratti di partita il celsi addirittura non riuscì a vedere palla mentre gli inglesi ancora giocavano come una volta lanci lunghi verso verso le punte sperando che la buttassero dentro il bologna aveva uno stile ben riconoscibile improntato proprio da arpa d'avage fatto di passaggi corti per portare avanti il pallone uno stile decisamente più moderno rispetto a quello che ci si possa pensare la partita finì 4 a 1 e come detto per lunghi tratti il celsi non riuscì a vedere palla dopo quella partita il bologna e venne soprannominato la squadra che tremare il mondo fa perché a tutti gli effetti si può essere considerata quasi la prima coppa campioni della storia siamo nel 1937 è iniziato un nuovo campionato quello che finirà appunto nel 1938 e arpa d'avage è oramai considerato uno dei migliori allenatori del mondo è italiano ungherese ormai un po metà e metà è ebreo ma forse non interessa tanti ed è un allenatore passerà qualche mese però e il fatto che sia ebreo inizierà ad interessare perché 1938 è anche l'anno in cui in italia vengono promulgate le leggi razziali e improvvisamente arpa d'avage passa da essere uno dei più desiderati allenatori d'italia ad essere un paria pochi mesi dopo è costretto ad andarsene dall'italia perché secondo le leggi razziali qualunque ebreo che vivesse che avesse iniziato a vivere in italia dopo il 1919 era obbligato ad andarsene dal paese e forse per alcuni di loro fu una fortuna perché alcuni di quelli che rimasero finirono poi nelle camera gaze arpa d'avage lasciò l'italia si recoprime in francia e quindi raggiunse l'olanda dove iniziò ad allenare una piccola squadra perché dopo tutto il suo lavoro era quello forse non si considerava più italiano dopo dopo il modo in cui era stato trattato era ancora ungherese anche lì qualcuno sicuramente gli ricordava che era ebreo ma soprattutto era ancora un allenatore di calcio condusse il Dordrecht che era una piccolissima squadra di un piccolissimo paese addirittura a rivaleggiare con le grandi squadre olandesi come l'Ajax, PSV Eindhoven e lo portò addirittura al quinto posto nel campionato che ancora oggi è il miglior risultato per quella squadra di sempre a Dordrecht sicuramente lo amavano forse nessuno più lo considerava un ebreo ma lo consideravano semplicemente per quello che era un allenatore e ungherese nel 1939 però la Germania nazista aveva invaso e conquistato la Polonia e nel 1940 invaderà e conquisterà anche l'Olanda cosa successe nei mesi successivi è difficile saperlo sappiamo per certo che per alcuni mesi Arpad Weijer e la sua famiglia la moglie e i tre figli vissero nascosti forse protetti proprio da quei giocatori o dal presidente del Dordrecht ma alla fine vennero catturati ed inviati ad un campo di smistamento in Olanda dove rimasero fino a 1942 peraltro già divisi nel 1942 la moglie Elena e i tre figli vennero portati direttamente nelle camere a gaze mentre Arpad Weijer che forse era ancora abbastanza giovane abbastanza in forze per poter lavorare venne portato in un campo di lavoro nell'Alta Slesia a quel punto lui non era più un allenatore di calcio non era più ungherese di certo non era più italiano due patrie che l'avevano decisamente abbandonato forse a quel punto non era più neanche un ebreo perché credo che in un campo di concentramento ormai che tu fossi ebreo che fossi zingaro che fossi omosessuale che fossi un dissidente politico un soldato dell'unione sovietica credo che francamente oramai importasse poco oramai Arpad Weijer era un numero un numero che portava tatuato sul braccio e tra il 1942 e il 1944 senza neanche sapere quale fosse stata la tragica fine della moglie dei figli lavorò in un campo di lavoro nell'Alta Slesia Slesia all'inizio del 1944 probabilmente troppo provato dalle fatiche venne avviato ad un campo di sterminio e nel gennaio febbraio del 44 morì in una camera a gas quando morì Arpad Weijer era un numero era un numero tra tanti era uno di quei sei milioni di ebrei che ogni volta che è la giornata della memoria domenca ci ricordiamo e questo secondo me è un pochettino il senso della giornata della memoria ricordarsi che ognuno di quei sei milioni perché poi sei milioni un numero è un numero una cosa che boh sei milioni di persone quanti saranno che ne sono il mio palazzo ce ne saranno tanti sei milioni boh qualcuno in più forse no sei milioni di persone sono tante ma sei milioni di persone sono un numero che non è la nostra testa non può tenersi a mente e allora sono come ombre sono numeri quello che poi dopo tutto era l'obiettivo di chi quel numero gli era messo addosso per questo secondo me è importante la giornata della memoria per ricordarsi che quei numeri erano persone e che ognuno di loro aveva una storia che Arpad Weijer non era un numero ma era un allenatore un calciatore era ungherese era italiano certo era anche ebreo che è stato l'allenatore più vincente degli anni 30 che ha vinto il primo scudetto del campionato a girone unico con l'inter che ha vinto due scudetti col bologna che ancora oggi è il più giovane allenatore aver mai vinto uno scudetto in italia che ha vinto lo scudetto prima e lo scudetto dopo la juve cinque volte campione questo era Arpad Weijer e io credo che ognuno di quei sei milioni di ebrei ognuno delle vittime non voglio far differenze delle vittime nei campi di concentramento nelle foibe le vittime dei campi di sterminio nelle staliniani ognuno di loro aveva una storia e credo che la giornata della memoria serva quello a ricordarsi la loro storia bene con questa chiusa che spero non sia stata troppo retorica io vi saluto ci vediamo domani con un'altra pillola di storia inizierò un progetto speciale quindi vi consiglio di vederlo ci vediamo domani sempre qua con pillole di storia oggi la chiusa non mi piace non la faccio perché sono storie che non bisogna non ricordare bisogna ricordarle tutte le storie assolutamente ma forse per una volta sarebbe meglio se fosse la storia uscita dalla fantasia di qualcuno e non e non la realtà se volete leggere al vedere altre storie qua al fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo domani sempre qua con pillole di storia ciao ciao